Non aprire società a Dubai se prima non hai guardato questo video fino in fondo. Io sono Luca Taglialatele e da oltre 20 anni mi occupo di pianificazione fiscale e diritto tributario internazionale. A Dubai, a partire dal 1 giugno 2023, si pagano le tasse. Non l'ho deciso io. L'ha deciso un decreto legge, il numero 47 del 2022, emesso nell'ottobre scorso dal Ministero delle Finanze Emiratine. Quello che bisogna capire è che a Dubai entra in vigore un diritto tributario, come se fosse un legislatore, un corpo di leggi vero e proprio. Che in passato non è che non ci fosse, ma non esplicava effetti fondamentali, per cui tutti lo lasciavano in seconda piano, utilizzando una terminologia non volgare. Quello che devi sapere adesso è che alcuni istituti che sono tipici del diritto tributario entrano in vigore e devi averci a che fare. Se sei un imprenditore, se hai interessi non solo a Dubai, ma del resto del pianeta Terra, qualsiasi sia il tuo mercato di riferimento, oggi devi sapere tre concetti chiave che devi portarti a casa. Numero uno, la corporate tax law, il decreto ministeriale, introduce un concetto di GAR, cioè General Anti-Abusive Rule. Che cosa vuol dire? È quello che in Italia è conosciuto come abuso del diritto. Allora qualcuno potrebbe pensare di fare dei giochetti e andare a intervenire sui costi o sui ricavi per non pagare quella tassa. Questo principio, General Anti-Abusive Rule, cioè è una legge anti-abuso, va a punire chi pone in essere dei comportamenti irregolari per non pagare le tasse. In Italia si chiama abuso del diritto ed è una cosa che molte giurisdizioni avanzate applicano, quindi facciamo attenzione. Numero due, esterovestizione, cosiddetto place of effective management in inglese, entra in vigore adesso anche a Dubai. Il ministero delle finanze ha stabilito, ha statuito, ha spiegato che chi amministra una società offshore, quindi non emiratina, dagli emirati, potrebbe essere a questo punto tassato per trasparenza. Sia se questa società è detenuta direttamente da una persona fisica, sia se questa società è detenuta invece per il tramite di un'altra società emiratina, che è un grande classico fondamentalmente. Pensate alla classica società incorporata nel Delaware, magari aperta soltanto per motivi di wallet, di pagamento. Adesso avere una società all'estero ha degli effetti, potrebbe essere tassata per trasparenza. Il semplice fatto di averla incorporata magari sotto la vostra società emiratina, incorporata nelle free zone, non vi garantisce l'esenzione da imposta. Numero tre, stabile organizzazione. Si rende adesso applicabile anche a Dubai un concetto di stabile organizzazione. Un esempio tipico è quello degli imprenditori europei che hanno tutta la rete vendita, magari residente a Dubai. È un caso molto ricorrente anche tra i miei clienti. Oggi quella rete vendita che genera un fatturato, che sviluppa un profitto all'interno degli emirati, potrebbe generare un profitto tassabile all'interno degli emirati. Questi sono soltanto tre degli n istituti giuridici e nuovi concetti che vengono introdotti, ma più che altro applicati, perché in realtà già esistevano. Il punto è che chiaramente anche se con la free zone prima vi scaricavate, tra virgolette, volgarmente, o meglio caricavate tutte le vostre spese personali, questo non sarà più possibile, perché c'è un obbligo di contabilità, cui segue un obbligo di bilancio che sarà pubblico. E quindi io non posso andare a caricare il fitto di casa, gli abiti, le scarpe, eccetera, eccetera. Io sono Luca Taglielatela, lo ribadisco, perdonatemi, da oltre vent'anni mi occupo di diritto tributario internazionale. Oggi, se hai intenzione di trasferirti a Dubai, o se già a Dubai, con delle implicazioni, con delle partecipazioni, con degli investimenti worldwide, non puoi più pensare di affidarti a chi apre società. Hai necessità di un professionista che capisca l'interessenza del diritto tributario locale con il diritto tributario internazionale, e che ti aiuti a maneggiare con cura e soprattutto con prudenza i tuoi asset personali e aziendali. Oggi voglio offrirti la possibilità di prenotare una call gratuita con il mio team, per fare un'analisi, un check-up della tua situazione particolare e per capire se e quando hai bisogno di un intervento da parte nostra. Non perdere questa occasione, prenota oggi la tua call gratuita, noi ci rivediamo dall'altra parte.